Con me? Sì, non so se con altri, perché quando ogni tanto vedo qualche video virale, la prima cosa è che andiamo a vedere perché è virale, vado a leggere i commenti, magari una ragazza che aveva fatto un balletto e la stanno distruggendo, o un ragazzo, questa cosa mi fa venire un cuore piccolo. A me quando fanno degli attacchi, i peggiori sono quelli che magari dovrebbero essere quelli della tua parte, no? Ma io cosa faccio? Quando voglio essere cattivo, fisso il commento in alto, così tutti lo vedono, ci pensano gli altri, però mi pento, però qualche volta per esempio mi scrivono in privato, mi perdoni, come faccio adesso andare a fare la comunione, ora che ho scritto una cosa così a un prete, scusi, perché una volta tipo, Eh, lei farà la fine di sua Cristina. A, rispetto per sua Cristina, prima. B, sono prete da 2006. Se volevo scappare con una bionda o un amore, ero già scappato, con una bionda o un amore che arriva lei a dirmi perché faccio un video. Mi scusi, ma vabbè, mi spiace, però diciamo che sicuramente molti ti insultano, ma se tu li consideri poi diventano fans. Strano, non è vero? Quindi dalle persone poi che odiano fondamentalmente poi nascono persone che apprezzano quasi il tuo lavoro. Cercano un po' di attenzione. Eh, probabilmente.